Noi quello che abbiamo fatto in questo anno è stato cercare di tutelare le nostre imprese, anche cercare di rilanciare la promozione e l'accoglienza del nostro territorio, facendo squadra, cercando di costruire una rete, soprattutto appunto di operatori che conoscono questa nostra terra, per cercare di promuovere di più e meglio la Regione Marche. Adesso noi facciamo delle richieste naturalmente alle istituzioni, alla Regione in particolare, con cui ci siamo sempre relazionati. Noi abbiamo bisogno di un sostegno che consenta alle imprese di passare l'inverno e di non trovarsi in difficoltà, con tanti posti di lavoro che comunque sono a rischio, perché comunque il settore del turismo e dell'incoming è stato quello più colpito della pandemia, ancora non è ripartito, sono due anni di difficoltà, quindi abbiamo bisogno di sostegni veri per consentire di poter proseguire il nostro lavoro. E naturalmente un'altra cosa che chiediamo è quello di lavorare insieme, condividere le scelte, i progetti e le azioni di promozione e di promo commercializzazione che naturalmente dovremo andare a fare. In ultima istanza la nuova Agenzia sul Turismo e l'Internazionalizzazione, che appunto noi abbiamo sostenuto e quindi siamo favorevoli di questa misura che ha preso la Regione, chiediamo naturalmente subito un confronto per poter confrontarci con questo strumento, affinché sia agile e ovviamente non sia concorrente con le nostre imprese, ma che sia anzi di aiuto rispetto agli operatori dell'incoming. Gianni Rebecchi, Presidente nazionale Assoviaggi, ospite oggi a Senigallia, all'assemblea di fine anno dell'associazione Inside Market Live. Poco dopo un intervento del Ministro Speranza, che impone il tampone a tutti coloro che entrano in Italia dalla comunità europea. Io penso che stiamo infrangendo delle regole europee, il lavoro di nove mesi che abbiamo fatto come associazioni, anche per costruire il Green Pass a livello europeo, quindi trovare delle norme comuni per potersi muovere e viaggiare all'interno dell'Europa almeno, sono state sgretolate nell'arco di una notte, quindi questo è un tema sul quale prendiamo pesante posizione perché chiediamo di ripristinare assolutamente la libera circolazione, almeno in Europa, delle persone che possiedono un Green Pass e che quindi assolvono tutti i protocolli sanitari che sono stati richiesti.